Ciao, sono Christel, vi porto nel mio negozio. Benvenuti a Chicoré, nel centro tenero. Il nostro negozio Chicoré è presente sul territorio svizzero con più di 160 figliali. Da un anno siamo presenti nel centro tenero e da più di 30 anni in Svizzera. Le nostre collezioni si rinnovano di continuo con offerte sempre esclusive ed invitanti. Buon compleanno centro tenero!